Eccoci qui amici sportini, buonasera, bentrovati con Rosso Nero Positivo, siamo in diretta un'ora e mezzo per parlare di ciò che è stato ma soprattutto di ciò che sarà perché già l'antivigilia il Lanciano giocherà venerdì, dopodomani in notturna ore 20 e 30 arriverà il Cesena, scontro diretto contro una compagine, il Cavalluccio che va forte, tre vittorie consecutive. Per i ragazzi di Bisoli ne parleremo questa sera, tanti servizi, il sondaggio, gli sms da casa, ne parleremo con Gianni Cuniberti, l'avvocato Gianni Cuniberti, buonasera, libero pensatore, sempre polemista d'eccezione, volentieri che accogliamo. Libero pensatore, molto libero pensatore. Molto libero pensatore. La libertà è la prima cosa, al tuo fianco Domenico Di Cecco, scegliete voi il sottotitolo difensore centrocampista attaccante, fate voi perché il giorno... Buonasera, grazie. Buonasera anche se tu preferisci comunque il mezzo destro è quello che preferisci. Mediano, mediano era il mio preferito. Però lasciamo le scelte al mister. Certo. Come va Domenico? Bene, bene. Preparazione procede? Tutto tranne qualche febbre o qualcosa così però va tutto per il meglio. Ce ne riferirà nel corso della trasmissione. Vittorio Spadano, buonasera prof. Non preferisco le metà, mezzo destro. Alla destra che mezzo. Queste cose di... Quindi il giargo lo dobbiamo riaggiornare al passato. Al passato, che facciamo? Quindi risponderà il terzino, l'ala, è vero? Mezzo destro, va bene, comunque se lui gli fa comodo così, ve gli sta. Va bene, centrocampista di destra. Mediano destro, mediano sinistro. Mediano destro, mediano sinistro. No, sinceramente De Cecco ha rischiato di non sapere più qual era il suo ruolo in campo. Un giocatore universale. Ha rischiato di non sapere più qual era il suo ruolo in campo. Invece non è vero, un giocatore modernissimo perché i migliori giocatori sono quelli che... Sicuramente moderni. Tutti gli sport. Adattabili, certo. No, sono universali si chiama. Stanno bene in tutte le posizioni. Del resto chi sa giocare col destra e col sinistra e con la testa si può permettere di stare dappertutto. Quindi faresti anche il portiere. Anche il terzino, quello dove finirà. Manca di centimetri però, all'incluso di particolare ci arriverà. Ci arriveresti. Va bene, comunque, questi gli ospiti della trasmissione. Dicevo, tanti servizi in onda ci mandano subito quello che sarà il sondaggio della serata. Un sondaggio ad ampio raggio. La città è pronta per il grande salto? La città dal punto di vista della mentalità, dal punto di vista delle strutture, dal punto di vista della politica, secondo voi può aspirare a qualcosa di davvero importante? Non necessariamente quest'anno, anche l'anno prossimo, fra due o tre anni. Però la città è pronta per un eventuale ipotetico grande salto? Secondo voi, Gianni? E' pronta. A mio avviso sì. Se facciamo il ragionamento puntandolo solo sull'aspetto sportivo calcistico, sì. Dico sì. Perché lo sport è un valore, come dire, generale. non è un privilegio di alcuni a danno di altri. Lo sport è un valore che permette a tutti di poter aspirare alla crescita. Quindi, con questo che cosa voglio dire? Non significa che Lanciano, siccome è una città di 37 mila abitanti, a Lanciano spetta un determinato ruolo nello sport. Quindi potrebbe essere la Serie B, potrebbe essere la Lega Pro. Lo sport, essendo un valore assoluto, permette e consente anche a una città di 37 mila abitanti di poter aspirare a una Serie A, per dire. Non ci sono barriere a priori o confini. Domenico? Sì, sotto quel punto di vista è giusto. Anche secondo me sotto il punto di vista della mentalità che hanno preso i tifosi, sia i ragazzi della curva che comunque tutti gli altri. perché c'è la mentalità giusta e secondo me è chiaro che sarà difficilissimo, però c'è il tutto per fare, come abbiamo detto, il grande salto. Forse mancano, non so, le strutture, le stadie, le cose che Serie A e tutte le altre squadre hanno. Quindi le strutture mancano, la mentalità dei tifosi non manca e non manca il comprensorio. Che dice il comprensorio? Quanto si è stretto attorno a Lanciano? Eh, tanto, soprattutto negli ultimi due o tre anni, tanto. Per noi calciatori che viviamo qui è davvero bello. Quindi non sono più 37 mila abitanti, ma un bacino che si è allargato, caso meglio 80, 90, 100 mila. Comincia ad essere una città di media grande. Esatto, ma se ragioniamo su un dato obiettivo rispetto agli ultimi due campionati, noi dobbiamo dire che sì, è vero che abbiamo un comprensorio, però è anche vero che questo comprensorio, per non si sa quale alchimia, non si riesce ad aggregare completamente intorno a questa realtà. Completamente, parzialmente sì. Io credo che questo sarebbe anche compito della politica, consentire l'aggregazione. Di abbracciare tutto il comprensorio. Prima della telefona con Gianfranco Semproni, il pensiero del prof, brevemente. Il pensiero del prof è quello che il comprensorio è così, perché noi in passato, in politica per altre cose, non siamo stati mai alla testa del comprensorio, abbiamo fatto politiche stranissime, dovremmo tornare da 40 anni fa in poi, per raccontarvi il perché, quelli che ci stanno intorno guardano l'angiano, insomma, senza, con una, con una, non molta simpatia. In versione di tendenza comunque è possibile. Per partecipare al sondaggio basta rispondere con un sms al numero in sovrimpressione, se riteniate che la città è pronta per il grande salto, scrivete sì e mandate poi l'sms, viceversa no, oppure non so. Gianfranco Semproni, prima di tanti servizi, buonasera, benvenuto il Rosso Nero Positivo. Gianfranco. Chiedo scusa, buonasera agli ospiti, buonasera, professore. Buonasera. Fatte bene, Gianfranco. Io volevo intervenire per il semplice fatto, perché tanto noi venerdì commenteremo la partita in diretta, nella trasmissione a Mosoduro. Sì. Pertanto io volevo accostare sia il Lanciano al Pescara per aver giocato due partite in modo presuntoso, non quella l'ultima. Io parlo del Lanciano che è andato a Reggio Calabria. Per me è stato un Lanciano che non è stato sul pezzo, che quelle sono le partite che si devono vincere. Per me, io la vedo in questa maniera. Cioè se si fa la grande prestazione con il Brescia, si va a Reggio Calabria e si regala una partita non vedendo quel Lanciano mordente, grintoso, preciso sul pezzo. Poi si può anche perdere, non ha importanza. Io mi auguro che il Lanciano non faccia più questo errore, come non lo deve fare più il Pescara, come ha regalato tre punti a una squadra, l'ultimo in classico, tu gli devi andare là a sesse porte, gli da passare con un rullo compressore, calcisticamente parlando. Quindi non si può concedere niente a nessuno. Ognuno, sia il Lanciano che il Pescara, devono giocare al massimo sempre delle loro grandi prestazioni. Il Lanciano per l'impegno che ci mette, il Pescara per le dosi, per le qualità che ha, che dicono che abbia grandi qualità. Io non le vedo se non sempre, se uno non sta sempre sul pezzo. Io mi auguro, ecco, che Lanciano possa vedere un Lanciano, perché io ho fatto una prega di scommessa, caro Lanciano, se non mi costa l'ira di Dio, capisci che voi arrivati, io tu penso un pescarese che ha scommesso una prega di gente che arriva prima l'Ulanciano dove lo pescara, pensa un po' tu. C'è il guamo, c'è il guamo. Io sono un amante del brivido, purtroppo. Comunque, io spero che hai visto. Una volta avevo vinto 140 scommesse, professore, che Peppe De Cecco se ne andava e cacciava il Cessuto di Masce, non ha pagato le indirizioni, non ha pagato la gente. Eh, va bene, le rivelazioni, le tue rivelazioni. Comunque, abbiamo scherzato, io mi auguro di vedere, ecco, ci sta il signor De Cecco che ammiro moltissimo questo giocatore universale, anche per le sue capacità indiscussa e indubbia, perché purtroppo se il Lanciano gioco, come guarda Reggio Calavale, lascete perdere, vi salvate senz'altro, questo è poco, ma è sicuro, ma lasciate perdere sogni che non esistono. I sogni possono esistere se il Lanciano è quello che ho visto con il Brescia. Possono esserci anche i sogni per il Pescara, se vediamo il Pescara del secondo tempo di domenica. Allora sì che il Dio del Calcio ti premia. Può succedere, ne abbiamo regalato Juve e Stabia, abbiamo rigiocato bene, il Dio dello Sport si è punito, quindi pertanto io credo, siccome credo in quel Dio dello Sport che premia gli atleti, la professionalità, la capacità, la dedizione, il sacrificio, io ci credo fondamentalmente, quindi io mi auguro che sia il Lanciano, il Pescara, poi si può anche perdere, ma sempre con l'onore delle armi. Perfetto. Questo è io che. Grazie. Diamo una buona serata. Buonasera. Buonasera professore e auguri. Buona serata. Buona serata. Grazie a Gianfranco Semproni che ha lanciato un input ben preciso a Reggio, senza fame, tra virgolette. Ci possono dare una mano alcuni titoli di giornali, vediamo cosa è successo. Una breve rassegna stampa. No, vediamo, anche quelli nostri. Gagliardi, fame e umiltà, così si vince. Gagliardi è allenatore della regina, l'ha detto Semproni, è mancata la fame, è mancata l'umiltà. Ecco le parole di Gagliardi, fame e umiltà, così si vince. Telefonata non organizzata, Gianfranco che ci sta seguendo da casa. Il tecnico della regina è soddisfatto, abbiamo gestito bene il vantaggio. Poi, sia il centro sportivo per la Virtus, possiamo ricollegare questo titolo alla programmazione, anche al sondaggio. La città è pronta per il grande salto, sì, perché a Frise è stata posta la prima pietra per il centro sportivo nel quale vi andrete ad allenare. Poi il centro, Lanciano non punge, Barillà lo punisce, ricordiamo Barillà, giocatore di ritorno, dà la regina, la Sampdoria, ritorna alla regina e va subito in gol. Poi regina, vai Barillà, il Lanciano esteso, la gazzetta dello sport, ancora altri titoli, il Corriere Adriatico, Cesena e Trapani, che salti. Cesena, terza vittoria consecutiva e venerdì di scena qui al Biondi. Vincono e vedono i play-off, crolla il Padova, si riaccende la regina, vittoriosa contro il Lanciano, Corriere dello sport, Barillà, orgoglio, regina, Barillà, orgoglio, regina, poi il resto del Carlino, Lanciano, frenata la folle, corsa iniziale, ancora Cesena, la difesa ora è da primato, perché i rossonieri avranno di fronte una difesa bunker, che insieme al Palermo, con solo 18 gol al passivo, è quella meno perfolata del campionato, vediamo se abbiamo anche qualche altra pagina, ancora il resto del Carlino, problemi per Coser, si prepara agli ardi, quindi qualche problema per mister Bisoli, e poi Foschi medita l'abbandono, non so se a giugno resterò la grana, Rino Foschi, che è uno dei direttori tecnici più conosciuti, anche stimati in Italia, poi il messaggero, Baroni, Lanciano, vietato parlare di play-off, sentiremo ancora qualche pezzo di intervista della conferenza stampa, e poi Lanciano prepara l'assalto al bunker del Cesene, Rossoneri, contro la difesa meno perforata del torneo. Cosa salta agli occhi di questi titoli, di queste considerazioni? Una sovrastima della partita con la regina, della regina, sicuramente, io non ho visto questa regina, che... Ha capitalizzato l'episodio? Sì, certamente, ha fatto che abbia fatto grandissime cose, anzi, assolutamente. Se devo dire, in effetti ho avuto anche io la sensazione che la squadra fosse incerta, c'è stato un palleggio continuo sulla metà campo che non riusciva a trovare la verticalizzazione. Io adesso, non essendo un tecnico, non posso dire che probabilmente questo dipendeva dal fatto che la regina si difendeva in dieci uomini, però, ripeto, il dato che emerge dalle considerazioni sportive fatte dalla stampa, ho visto che questa regina è stata notevolmente sovrastimata. È stato dando troppo merito alla regina del caso della prestazione. Nella sovrastima, evidentemente, ti riferisci alla prestazione, secondo te è una prestazione sovrastimata. Domenico è mancata la fama e l'umiltà, come diceva Gianfranco, o cos'è mancato? Il campo pesante è quello sicuramente no. Il campo ce l'hanno anche loro. Forse a noi, soprattutto nel primo tempio, io l'ho visto dalla panchina, è sembrata forse troppo facile, perché la palla l'avevamo sempre noi. E allora abbiamo fatto sto palleggio più in orizzontale che in verticale, per come siamo abituati. Ci siamo fatti un po' trasportare la loro partita, loro si chiudevano tutti e undici, non dico qual è l'area di rigore, ma quasi. Quindi ci siamo un po' forse adagiati, è il posto di rimanere calmi, ci siamo fatti prendere a sto palleggio. Poi loro hanno sfruttato l'unico episodio, che era anche farlo, però hanno sfruttato bene quell'episodio. Sembrava scritto uno 0-0, un po' così come per parte della partita col Brescia sembrava un esito scontato. Poi Lanciano ha saputo con grande pazienza e intelligenza trovare la via della rete. È stata un po' la partita col Brescia al contrario. Sì, il campo era quello, però il Brescia non si chiudeva come si è chiusa la regina, quindi ti lasciava più opportunità di giocare. Dobbiamo calarci di più nella mentalità della Serie B, la Serie B come sbagli, non puoi sbagliare niente perché ti puniscono. Noi forse ci siamo fatti, siamo adagiati all'andamento della partita. Pericoloso senso di appagamento? No, appagamento no, perché noi vogliamo vincere tutte le partite, oramai non conta niente, sappiamo che il pareggio conta poco, però in quelle partite così tante volte devi anche saper prendere il punto perché poi tante volte come è successo doveva perdere un episodio così. Prof? Devo dire così che la paura sta giocando un brutto scherzo in questo campionato perché noi siamo partiti che eravamo squadra umile, combattiva, la società, il direttore sportivo, avevano costruito una squadra con l'intento di rimanere in campionato. L'avvio del campionato invece ha sorpreso tutti perché il Lanciano che mastica un certo gioco, si muove con certi tempi sul campo è riuscito ben presto a salire ai vertici della classifica. Infatti tra le squadre che adesso stanno nelle prime posizioni di classifica Lanciano è quello che è stato per più settimane in testa alla classifica. Il nostro allenatore fa bene a predicare umiltà, ma la troppa umiltà molte volte, sai c'è un proverbio che dice che chi troppo si abbassa il culo si scopre. Domenica, quando siamo andati noi a giocare la gara, noi abbiamo giocato una prima parte in cui abbiamo tenuto palla e abbiamo tenuto anche campo. In genere, le squadre che hanno paura sempre giocano sempre di rimessa, sono sempre ben raggruppate avanti alla loro area di rigore, palla lunga e pedalare. Allora è capitato nella ripresa, quando noi giochiavamo con questi palloni trasversali senza approfittare mai dalla profondità, un solo intervento preciso, bellissimo, di questo giocatore che è rientrato da una serie di super all'alba, che ha girato di testa. Però poi vedremo l'episodio con calma dopo la pubblicità perché è viziato da due regolarità. Ha schizzato questo pallone e ha fatto rete. La nostra reazione c'è stata, ma ormai su un campo in quel modo allentato, dove la spinta è quella che è, si può giocare meno, gli H hanno continuato a difendersi, noi abbiamo perso... È stata una reazione molle, priva... Molle, abbiamo reagito per quanto potevamo. Io vorrei dare un attenuante, questa squadra ha avuto due partite su due campi impraticabili. Ci può stare una flessione, ci può stare una flessione. Noi siamo contenti del campionato, non si preoccupi. Quindi la prima sopporti, la seconda crolli? La prima la riesci a superare, perché... Però la seconda sullo stesso campo, su uno scampo pesante, che poi tra l'altro in TV non è che si vedeva molto bene. Si capiva, ma era peggio di come era in condizioni. Il Domenico che c'era, com'era? È sempre un campo di Serie A, quindi dovrebbe essere drenato come si deve. Invece... Sì, no, ma soprattutto sulle fasce, noi abbiamo visto le azioni che faceva piccolo, che saltava sempre l'uomo, poi la palla si fermava là. Non dico che era impraticabile, ma comunque non è calcio, poi soprattutto per come lo facciamo noi siamo più svantaggiati rispetto alla Regina che ha fatto una partita di rimessa. D'accordo sull'analisi del professore, d'accordo sull'analisi di Gianni Cudimberti, che due partite di fila col campo pesante alla fine. Sì, vabbè, è chiaro che un po' ne risenti, perché la fatica a fine partita si fa sentire, però non dobbiamo trovare scuse e alibi in nessun modo. Anche sul fatto che andremo a vedere sui presunti fuorigioco. Sì, quello vedremo con assoluta calma. Ma guarda, dobbiamo essere superiori anche su questo, cioè, non sottovalutare... Non trovi d'accordo il prof. Lo so, Gianni. No, 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 ma poi... Lui che è stato il tuo professore, ho saputo questa sera. Sì, sì. Quindi conosci anche i metodi. Occhio. Le letture continue sui mancati rigori, le mancate concessioni, perché poi alla fine della fiera, cioè alla fine del campionato, queste si compensano. Una volta era questa la teoria, adesso ci comincio a credere meno. Una volta pure io ci credo. Allora, capitolo arbitri, lo rimanderemo. Dopo la pubblicità, ma intanto vorrei vedere come va il sondaggio. La città è pronta per il grande salto sms, con il numero in sovrimpressione, non so se già sono arrivati messaggi e quindi possiamo capire cosa dice, cosa ne pensa il popolo rosso-nero che ci segue da casa. Il grafico c'è? Un attimo che arriva. La città è pronta per il grande salto? Ecco qui, l'80% dice di sì, il 20% è tra quelli degli indecisi. Lo 0% dice no. Che la città allora è pronta, prontissima per il grande salto. Mi ricordo una canzone, salve o popolo di eroi. chiamiamo. Magari non è l'80%, ma io credo che la città, il cittadino, la singola persona è molto pronta. Purtroppo però bisogna vedere se a livello istituzionale siamo pronti e quindi perché poi l'applicazione pratica di questa prontezza dipende da chi ci amministra e di chi gestisce se si sente pronto ad affrontare un salto in alto. Senti, nella presentazione iniziale Gianni Cuniperti ho visto nel sottopancia avvocato AR? No, 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 quello è è un acronimo straniero. Vediamo, vediamo il sottopancio di Gianni Cuniperti, regia. Non vedo la necessità. Va bene, avvocato. quindi per il professor fra novità vi farà foglie di via. Tieni presente che io per me il professor Spadano e malgrado ci sono passati tanti anni io lo vedo sempre con gli occhi di quando mi insegnava all'istituto tecnico commerciale per Geomi. Quindi ho una sorta di timore reverenziale che mi è rimasta da allora. C'è sempre questa soggezione? Sì, c'è sempre questa soggezione anche se il professore non è che ha chiesto di essere una persona che incutesse soggezione però era una figura intanto era una delle colonne del suo tecnico commerciale per Geomi tra la prima pare anzi quest'istituto che oggi è ridotto ai minimi termini detto questo voglio solo ricordare un esempio che il professor allenava il salto d'ostacoli col frustino quindi bisogna saltare per forza no no perché per lui le gare studentesse a Chieti non ha un motivo per farlo saltare per farlo saltare di più col frustino tu che scuola hai fatto scuola a Lanciata? no ragione di a Chieti ragione di a Chieti giocavo lì quegli anni va bene la fama del prof è arrivata pure a Chieti la pesca io conoscevo questo giovanottino quando era nato perché il padre era un pescatore andavamo insieme qualche volta lo è ancora il tuo papà va ancora a pesca ogni tanto per una partita e l'altra soprattutto sui laghi sui fiumi ci siamo incontrati quindi mi ricordo benissimo l'ho visto spesso in mezzo a noi quando si pescava nelle gare e da allora mi ricordo il padre mi parlava di questo qui me ne parlò quando era andato in una società aveva cambiato società non so se dal Chieti all'Avellino qualche cosa mi ricordo che allora mi illustro le avventure di questo figlio e dissi speriamo di vederlo all'angiano presto è me che non lo diceva anche tu hai la passione per la pesca no oltre il calcio la tua grande lavoro tutti gli altri sport ma la pesca la pesca no è una cosa troppo di intellettuali gente tranquilla è una cosa strana è una cosa da pensare stare attentamente concentrando non è una cosa così non è una cosa così fagile come pensi bisogna rifletterci assai e stare sui libri no stare sul pezzo là no ma insomma bisogna pubblicità poi vedremo la classifica e l'episodio del rigore del rigore del duplice fallo giusto? fuori gioco clamoroso perché ne erano un 4 e poi il fallo lo vedremo pubblicità prima faccia pubblicità eccoci ancora in diretta intanto mentre arrivano sms per il nostro sondaggio ne arrivano lo stesso numero anche altri che vogliono esprimere giudizi pareri e ve ne leggo qualcuno non siamo pronti per carenza di una ricettività come alberghi i locali e chi più ne metta poi ma Di Cecco essendo un rullo compressore perché non l'ha fatto giocare mister Baroni contro la regina con quel campo pesante lui si esalta su quei terreni non capisco perché non ha giocato è inutile che ti faccia questa domanda perché se stavete il mister il patatrack cosa ne pensate? era adatto Di Cecco a giocare su quel campo? io ho detto così che Di Cecco un giocatore universale visto il suo utilizzo in qualche occasione è stato sannato perché è stato quello che ha scardinato le difese avversarie per cui io me lo ricordo anche su campi pesanti che si è mosso bene devo dire un'altra cosa però che forse venerdì a Langiano arriverà da amico quel giocatore che ha giocato e vinse un campionato con la Lazio con la Lazio mi pare che fosse il 74 è stato un ragazzo eccezionale allora aveva già 16 anni e mezzo andava al gol no adesso invece noi andiamo cercando questi ragazzi che vengono dalle primavere primavera di bellezza una canzone che non si canta più salve o popolo di Roma popolo qua siamo sempre per il passato invece dico così che i giocatori si devono fare si devono costruire all'interno diciamo di particolari bacini e quelli che vengono da tutte queste scuole che poi vengono reclamizzate difficilmente sono quelli che poi promettono l'abbiamo visto tante volte abbiamo adesso no volevo dire una cosa dice D'Amico io lo sento sempre quando vado a casa quando finisco la prima cosa che vado a sentire sono i risultati delle altre squadre quindi spesso lo sento disse D'Amico in una delle sue interviste che in Langiano era una buona squadra ma che aveva un giocatore uomini su cui forse si si faceva troppa pressione perché erano buoni fisicamente erano atleti ma tecnicamente non erano quelli che potevano dare a Langiano che potevano con una cioè non c'erano tra questi giocatori quello che con una giocata sola poteva cambiare le sorti di una partita per dire sì sono dei grandi combattenti dei generosi giocatori quindi un gruppo importante ma non c'è però non ha quelle individualità che poi caratterizzano Pescara quante volte ha vinto con il gioco di uno oppure quante altre squadre vince per una giocata sola che uno inventa in fin dei conti ha ragione D'Amico no? no mica dicevo che non aveva ragione per cui volevo dire che domenica scorsa c'è stato quell'episodio che poi vedremo nel momento che questo è successo che quello ha cambiato le sorti della partita sono quello lo 0-0 non lo schiodava nessuno fino alla fine pure destra e adesso lo vediamo intanto d'accordo con quanto detto dal professore e quanto asserito all'inizio da D'Amico non è una squadra ecco una squadra livellata nonostante quello noi i risultati li facciamo stiamo sempre lì forse tranne nel mente piccolo che è l'unico secondo me che può cambiare le sorti di una partita da solo perché ha delle giocate che in Serie B secondo me hanno poche persone però noi abbiamo fatto sempre forza e affidamento sul gruppo e su tutta la squadra e secondo me i risultati avvengono così non c'entra niente ma come stanno i gemellini bene bene alla grande ricordiamo che da qualche mese è diventato papà col botto perché o fa le cose in grande stile di cieco non le fa per niente due maschietti in un colpo solo com'è che si chiamano Diego e Luca Diego e Luca dormono sempre in lenzuola rossanere no dormono nel lettone io purtroppo ogni tanto me ne devo andare o trovare comunque qualche posto strano ti hanno confinato in qualche stanzino ma l'importante è che tu riposi bene perché insomma il lanciano ha bisogno di te scusami Gianni dicevi prima di che ti interrompessi volevi aggiungere qualcosa no a proposito dell'uomo che caratterizza la squadra con il tiro oggi dopo il mercato di gennaio abbiamo l'inserimento di Comia e il ragazzo io credo che la presenza di Comia in attacco a centro dell'attacco dia la possibilità a piccolo di non subire più il raddoppio e le triple le triple marcature perché succedeva proprio questo che al momento in cui piccolo arrivava in possesso del pallone le difese avversarie raddoppiavano e triplicavano perché probabilmente su una valutazione loro era più comodo lasciare libero centravanti e non lasciare libero piccolo probabilmente con la presenza di Comia al centro dell'attacco le difese avversarie dovranno decidere dove raddoppiare o triplicare a questo punto si verrebbe a creare lo spazio per l'estrosità di piccolo che è caratteristico proprio nel la partita ormai vicina meno di 48 ore e lo scopriremo vediamo l'episodio chiave poi ci saranno le interviste a Baroni e anche lui sottolinea questa ingiustizia guardate anche perché c'è non lo vedete proprio sulla parte bassa destra del vostro teleschermo Mammarella che poi quando procederà all'azione si vedrà che starà rientrando quindi comunque è una posizione che non tiene in gioco gli avversari ma andiamo anche in play ecco guardate qui il pallone che schizza poi il blocco ecco qui guardate sulla parte bassa Mammarella che alza la mano questo più fuori gioco di questo insomma Domenico sì no dal campo forse non ce ne siamo accorti neanche però poi il mister ci ha fatto rivedere le azioni come fa di solito ci ha bloccato l'immagine erano tutte e quattro in fuori gioco però sappiamo che ogni tanto gli errori arbitrali purtroppo ci possono stare dobbiamo essere più bravi anche di quelli poi si parla anche di un contatto con Trost sì si vede si vede la spinta non si sa l'entità della spinta però Mag è uno di una è una bestia non è che pesa 30 kg quindi questo lo avevo notato quella della spinta l'avevo notato l'altro che fossero in fuori gioco no però quello che alza la mano sbaglia non so come l'alzare se l'alza la mano è aperta ne va si fa il pugno chiuso che gli davano il fuori gioco perché non c'entra niente però non c'entrano niente tante altre decisioni che prendono gli arbitri perché per una settimana intera la squadra una squadra nostra che sta pescara ha fatto finire il mondo per un rigore dato o non dato assegnato o non assegnato noi contro quella squadra avevamo realizzato un gol che il collaboratore che il collaboratore aveva segnalato all'arbitro e solamente perché era stato fatto rilevare questa segnalazione all'arbitro abbiamo avuto pure il giocatore ammonito ma in altre occasioni è squalificato e squalificato allora ci sono ci sono c'è una statistica importante che dice che quando due squadre si incontrano se c'è un fallo e l'arbitro è indeciso la segna sembra la più forte quella che ha più storia dietro le spalle il Lanciano per queste cose è stato finora mara maldeggiato ed è inutile che noi dobbiamo comportarci dire o non dire e che certi arbitri vanno ad arbitrare o sono ubriachi o sono spaventati o pensano soltanto di uscire senza che gli si rompere scatole dopo in effetti abbiamo subito una serie di ingiustizie fortissime quello che il vorigioco si aggiusta la palla e fa gol va bene la palla che entra dentro e va bene un rigore inventato contro il Pescara e va bene non va bene proprio niente e non è che io sono contro gli arbitri ma sono falli evidentissimi che adesso voi avete fatto rivedere 4 in vorigioco spinta il giocatore viva l'Italia andiamo avanti che ne pensa Domenico fa male fa rabbia perdere così la partita era sullo 0 a 0 quindi la partita sarebbe finita 0 a 0 fa male perché purtroppo noi non possiamo farci niente soprattutto sulle decisioni arbitrali dobbiamo possiamo far poco noi ci alleniamo per vincere partite ma senza far conto di l'aria ma questi documenti loro lo vedono perché poi nei congresse quando gli arbitri sono riuniti proprio quelli di serie B e di serie A hanno detto sì molte volte sbagliamo e sbagliamo di grosso però noi non è che abbiamo avuto avete ragione no niente finora non c'è stato usato nessuna clemenza quindi quanti rigori abbiamo avuto manco uno fino adesso qualcuno l'ha avuto 11 e continuano a lamentarsi Gianni vinse il campionato con i rigori con i rigori ma su aspetta sulle penalizzazioni dei rigori di questo io sono pienamente d'accordo che ci sia che siamo in presenza di una classe arbitrale che è in piena malafede e dopo si va a fare e quindi vatti a confessare e ti perdono siamo opposto lo sai che cos'è che dà maggiormente fastidio rispetto a questo atteggiamento della classe arbitrale che è che loro si ostinano a continuare a commettere errori e non pongono rimedio agli errori nel senso già la stessa semplice ammissione di dire sì vabbè ho sbagliato umane sbagliare l'ho fatto l'ho fatto in buona fede ma per loro ammettere ammettere di aver sbagliato è come a me sbagliare due volte quindi non lo faranno mai dunque sarà compito della società della società per gli aspetti sportivi tutelarsi tutelarsi perché gli strumenti gli strumenti tecnici ci sono basta portare le immagini esatto esatto ci sono gli strumenti tecnici però poi dobbiamo fare anche il ragionamento di fronte a una percussione continua su quale sarà l'atteggiamento degli organi arbitrali dei nostri confronti che proseguono potrebbe essere potrebbe essere un'arma a doppio danni ancora più danni quindi una società di un certo punto diventa antipatica e scompa e che facciamo e che abbiamo gli armi che fa la mafia che metta sempre i siti dobbiamo avere paura sentiamo Domenico cosa ne pensa bene farsi sentire non farsi sentire voi come vivete questo metodo applicato alla Virtus abbiamo passato quelle settimane dopo Pescara dopo Trapani che forse ci siamo lamentati anche troppo anche in mezzo al campo siamo stati troppo nervosi quindi secondo me non ne vale neanche la pena non ne vale perché tanto abbiamo avuto anche il presidente il vicepresidente che è stato e purtroppo non è che è cambiato tanto anzi i torti ce l'abbiamo sempre subiti poche volte siamo stati avvantaggiati tra le decisioni arbitrali quindi secondo me è una causa persa conviene star zitti lavorare pensare quindi lavorare di più faticare di più purtroppo per pagliarsi la pagnotta se avevamo se avevamo favori arbitrali forse avevamo 4-5 punti di più e ci faceva comodo però se passare 25 partite non abbiamo avuto anche uno quindi aver giocato 24 24 partite e non aver avuto nemmeno un caccio di rigore a favore proprio questa è a chiedere sembra 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 da tutti gli elementi per pensare che il famoso il cosiddetto palazzo io non credo comunque ai complotti il famoso palazzo comunque è un po' distratto intanto vediamo il sondaggio come va la città è pronta per il grande salto c'è un messaggio che dice aspettiamo per il salto se ne parla fra qualche anno appena è pronto lo stadio e poi Enrico non fare le previsioni del tempo perché sta piovendo va bene questo messaggio non lo capisco avrò sbagliato in quella che è la mia passione se se una 2,5% dice che la città è pronta la città è intesa anche come comprensorio dilatiamo questo concetto perché giusto così il 25% o no il 12,5% non so è tra gli indecisi è tra gli indecisi adesso anche noi dobbiamo avere un bel gruppo che non sa che cosa fare se dire sì o no io che non ho dato giudizi direi aspettiamo prima la realizzazione del campo che ci è stato promesso cioè il campo che si sposta il velodromo che torna ad essere velodromo e quindi ci vedremo i ciclisti con le squadre minori e avremo un campo per 10, 12 tra l'altro dove lo mettiamo? Eventualmente dovessimo andare a fare la 7,8 mila persone perché adesso arriviamo a 4.000 3.500 dove li mettiamo? sulla testa? questo campo che era stato c'era stato certificato per 12.000 persone va a finire che ogni tanto ce lo riducono rimaniamo io tu e le rosa a vedere la partita solo e non sopra le tribune comunque posso far vedere una primizia che riguarda lo stadio Biondi se c'è Tommaso D'Alonzi in regia preparare una foto particolare no perché è stato dotato comunque impreziosito di poltrone che io non ti auguro mai di stare seduto lì ma sempre di giocare in campo perlomeno andate a riposare durante una sostituzione perché guardate qui cosa figureranno dalla partita di venerdì quindi ci sono delle nuovissime poltrone stile Champions stile Serie A guardate che bello questo è un altro segnale è un altro segnale che segnale è? rosso? è rosso allora questo è un segnale saranno comode? penso di sì io spero sempre di non provare però da sembra di sì sembra di sì questo è un segnale che la società che la società è in crescita e si sta strutturando giorno per giorno per fare il salto di qualità a questa società Lanciano i lancianesi l'amministrazione deve dare tutto l'appoggio possibile anche di più ok andiamo a sentire sembra ovvio mister Baroni le considerazioni domani ci sarà la conferenza stampa che precede la partita con Cesena sentiamo cosa ha detto in merito all'episodio che ha condizionato tutta la partita via anche se sulla rete ho poco da rimproverare ragazzi tra l'altro c'è un fuorigioco di partenza sul lancio e poi comunque la spinta sul Trost è abbastanza evidente anche se il direttore di gara mi ha assolutamente cioè era assolutamente convinto che la spinta l'ha vista ma che secondo lui non fosse stata influente nell'azione insomma detto questo niente purtroppo sono partite che quando gestisci una gara cercando anche di vincerla perché noi comunque siamo scesi in campo per fare una prestazione importante contro una regina che chiaramente ha cercato di non giocare ecco quindi noi purtroppo non siamo stati non siamo stati così dico determinati convinti in quelle azioni in cui intanto nelle palle inattive che comunque è il nostro potenziale ne abbiamo avuto parecchie e anche comunque sui cross e su queste situazioni che erano le uniche opportunità di 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 poter far gol insomma ci sono dei gol in cui mi viene in mente il gol di Bellotti su calcio d'angolo un bellissimo gol e lì il difensore non ci può far niente è un bel gol ci sono altri reti che abbiamo subito dove comunque magari noi abbiamo anche sbagliato qualcosa devo dire la verità mi sarebbe piaciuto richiamare i ragazzi però in quell'azione lì devo dire tanti nostri errori non ci sono stati magari ci sono stati errori di di altro genere però insomma in una gara li dobbiamo accettare io tra l'altro ho fatto complimenti all'arbitro a fine gara dicendogli che secondo me sul gol c'era una spinta e lui mi ha detto quello che vi ho detto non mi era accorto del fuorigioco onestamente me ne sono accorto subito dopo pochi minuti perché abbiamo la telecamera tattica appena finita la partita ho rivisto quel momento lì e ci sono ci sono quattro uomini in fuorigioco sulla palla ok chiarissimo mister Baroni tu durante l'intervista sottolineavi anche il fatto di rifugiarsi tra virgolette nelle palle inattive per conquistare i punti e conquistare i gol pare che sia un difetto ma infatti ma se tu senti tutti i commentatori sportivi delle reti nazionali su palline attiva lanciano la Virtus realizza solo su palline attiva e questa volta non è riuscito ma perché fare un gol su palline attiva è un fatto negativo io non riesco a capirle certe considerazioni domenico il mister ci lavora tanto quindi siamo la squadra che ha fatto più gol su palline attiva quindi è un merito più che tu non hai segnato però su palline attiva il tuo gol vero? è stato uno dei pochi gol su azione è l'inserimento di domenico di cieco abile comunque non è una vergogna signore su palline attiva il gol su palline attiva su un calcio di punizione un calcio di punizione mi piace pure di più perché mostra l'estero del giocatore per esempio assistere a un gol a un gol di mammarella su calcio di punizione mica è una cosa facile quindi questa sottolineatura Eman Lanciano gioca oppure segna il difensore beh perché se non fai i difensori perché ma perché quando segnava sempre che è una novità il difensore non può segnare cioè non può non può come la vedi domenico secondo me le palline attiva è sintomo di organizzazione perché noi ci lavoriamo tanto forse gli altri evidentemente ci lavorano di meno quindi quello è solo secondo me il frutto del lavoro che facciamo tutta la settimana e che facciamo da luglio col mese è un premio che va riconosciuto a questa squadra quest'anno tu quanti gol? uno? uno solo uno solo l'anno scorso si fesi cinque tre gol il tuo record massimo cinque qui con Camplone cinque con Camplone a proposito ti visto Camplone che impresa sta facendo a Perugia ha sbancato anche Lecce lo senti ogni tanto no lo sento adesso non più però sono contento perché poi è un allenatore che secondo me ha le idee giuste quindi merita di arrivare in bianco che si deve rilanciare tra quelli conosciuti non è il più scarso poi ha una piazza che lo senti ma gli ha allenato lui invece era buono bravo 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 a trent'anni cosa ti aspetti per il futuro? ormai le radici sono qui beh oramai sono piantate di più è chiaro che è sempre bello poter sognare o aspirare a cose che fino a qualche mese fa erano impensabili per Lanciano però noi siamo lì da inizio anno quindi è inutile stare a fare pensieri troppo negativi o troppo positivi dobbiamo rimanere se riusciamo a rimanere con i piedi per terra e con l'umiltà che ci ha contraddistinto in questi primi 6-7 mesi secondo me ci possiamo togliere delle soddisfazioni potrebbe essere la partita di dopo domani quella chiave per dare un segnale? beh è una bella partita perché loro forse adesso è la scuola più in forma che c'è in Serie B è chiaro che se non fai una partita di corsa di cattiveria è difficile portarla a casa eh il campo sì non lo stanno utilizzando il biondi quindi sì ma quello che conta soprattutto è che non deve essere intriso d'acqua sì sì perché diversamente la partita verrà falsata e poi basta un episodio una sfrigolata per condannarti oppure condannare l'altra squadra altri messaggi prima della pubblicità volevo ricordare a chi viene in curva venerdì che di fronte avremo una tifoseria guerrita quindi cacciate fuori la voce poi ciao Zio Dodò ci vediamo presto la tua Giorgia chi è Zio Dodò? è io la mia nipotina la tua nipotina quanti anni ha? ha quattro anni a dicembre allora saluta bene no vabbè tanto la vedo sempre quindi siamo all'angiano eppure l'è qui quindi ma a Reggio il campo era un sintetico oppure in erba era uno in erba era uno in erba e del resto si è visto perché mi sembra che sia quello della della Juve e Stabia Castellammare di Stabia Stabia Novare è un mistero è uno degli ultimi tipi allora è un mistero della ultima generazione va bene poi il pagellone l'uomo di peso sarei costretto a pesarti così da casa già vi hai fatto però dimagrito si dimagrito siccome mai è un po' sì perché? no penso come una corda di violino e poi la cartolina per conoscere la storia del Cesena ci collegheremo con Cesena con un collega e poi qualche foto di fondamentalismo Frenta è ancora qualcosa di personale il sondaggio come va? vediamo un po' la città è pronta per il grande salto sì boh no ecco qui 55,6% però sta avanzando il fronte rosso del no e sti rossi sempre colpa loro oppure no non vogliono nemmeno che andiamo in serie superiore nemmeno il playoff ci vogliono far vedere e il 5,5% dico sicuramente fotografa la realtà la realtà la realtà invece a quelle che senti Gianni in giro sì va bene dobbiamo stare con i piedi per terra sicuro ma sognare ogni tanto è lecito fa bene pubblicità eccoci qui rosso nero positivo parlavamo di un giocatore che è stato trasferito al siena Gianvito Plasmati peccato perché si è fatto male al crociato lesione al crociato certo che beffa vero? la solidarietà da parte di tutti voi come avete vissuto? ci è dispiaciuto perché poi abbiamo visto le immagini dopo la partita infatti l'abbiamo chiamato tutti perché è un ragazzo che non merita purtroppo di questi infortuni è chiaro che a noi purtroppo può succedere è capitato a lui massimo del dispiacere stagione finita per lui? sì stagione per l'anno prossimo ha giocato in coppa ha giocato poi la prima partita la prima partita e si è fatto male povero Gianvito giocatore che tu hai gradito sempre particolarmente? sì perché era un motivatore era a prescindere poi dal suo ruolo di giocatore era un motivatore dei ragazzi parecchie volte io dalla curva lo vedevo che lui lungo la linea di campo andava ad incitare i compagni che stavano in mezzo al campo il santo del sud Gianvito non è comune vedere un ragazzo che non sta giocando e che sul bordo campo fa il secondo allenatore che va a incitare tante volte era molto più mobile lui che Baroni è vero quando è andato via ho avuto un breve incontro con lui era commosso dispiaciuto ad andare via da Lanciano che si era trovato benissimo ho detto ma allora tu non potevi sì ma è una piazza un pochettino ambita io pensavo penso di fare bene a fare così ho capito la forza del gruppo è questa no? sì tutti quelli che vengono qui si trovano bene dopo due minuti quindi ci sarà un motivo ci sarà un motivo e anche risiede questo segreto nei cosiddetti anziani tu purtroppo dico fai parte di quella categoria però ecco vi riconoscete questo merito voi? no vabbè è chiaro che poi è sempre brutto riconoscersi i meriti però tutti i ragazzi che vengono e che poi se ne vanno se ne vanno con le lacrime e ci riempiono di messaggio quando vanno via quindi lo facciamo forse anche per quello perché alla fine una volta che raggiungi 30 anni hai meno aspirazioni dei ragazzi di 18 anni però è bello anche far trovare i ragazzi farli sentire a casa ma io dico così che le aspira non dovrebbero finire mai perché poi l'età è relativa a quello che uno si sente c'è quel giocatore del Bologna richiestissimo 9 milioni gli hanno offerto per andare a giocare lui vorrebbe andare perché dice ormai c'è 34-35 anni ma lasciatemi no fatemi guadagnare sti soldi la società non vuole perché è uno di quelli indispensabili a questa squadra quindi questi giocatori che dicono 32-33-34 anni qualcuno sono molto più dinamici e vivi di questi giovinetti che arrivano da questi gruppi da queste primavere che poi non hanno sostanza una volta in mezzo al campo su questi cambi su quei certi cambi è come fanno la presenza fisica solamente Domenico Di Cecco ti ritiene un generoso? sì molto generoso il pagellone con Domenico Di Cecco non ha giocato sabato ma il pagellone che vuole ecco dare delle pennellate dei tratti sull'ospite che abbiamo in studio via il pagellone con Domenico Di Cecco bello parlare di lui nell'identità rossonera di chi lavora sempre con generosità e con la maglia sudata Domenico Di Cecco racchiude infatti il vero senso di appartenenza è il classico giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere perché non tradisce mai le aspettative non lascia mai a piedi la squadra è il soldatino buono per tutte le occasioni dalle spiccate qualità tattiche polivalente adattabile a ricoprire qualsiasi ruolo con la Virtus ha fatto il terzino e il centrocampista ruolo a lui congeniale l'attaccante spirito di sacrificio corsa inserimenti queste le sue qualità in serie B ci sta benissimo e se da mezzo alla destra ancora meglio della Virtus è cotto il soldatino innamorato ecco giusto un minutino va bene? è stata proprio una sviolinata se dovesse esserci mia moglie dall'altra parte metterebbe in dubbio il mio matrimonio perché dice sei innamorato di Di Cecco però mi sembrano tutte cose vere giusto? ma il presidente dice che questa è una cosa che lui ha fatto che stiamo a dire che stiamo a dimostrare quello che uno ha fatto vedere di saper fare che stiamo a sviolinare ok contento? bella bella sì molto bella ok e va bene a conservare insieme a tante cose della tua carriera tra i più bei ricordi io mi ha fatto di vederlo in porta lì no l'ho già detto no in porta no perché gli avversari che sono scaltri inserebbero in un perdone metterebbero la palla 1,90 e quindi saremmo fritti tra un po' parleremo anche della prossima partita c'è il momento del peso ancora qualche battuta facciamo pesare l'avvocato sì no io vorrei pesare domenico domenico diciamo facciamo polisare pesare l'avvocato no pesare che? pesare l'avvocato sai che che pesa? no no controllo cerca di dare una mossa alla città di Lanciano con una situazione fa parte di un nuovo gruppo diciamo diciamo politico se così posso dire cittadino e quindi adesso proporranno delle idee diciamo nuove per la nostra città quali idee? brevemente perché non è una trasmissione le idee sarà compito del coordinatore dirlo e Gianni ti ringrazio di questa possibilità che mi stai offrendo niente abbiamo presentato alla stampa questo questo gruppo l'altro ieri e praticamente ieri anzi cioè e niente l'abbiamo l'abbiamo creata perché perché siamo tutti profondamente delusi di ciò che è accaduto a Lanciano negli ultimi negli ultimi anni e siccome tutti noi abbiamo un percorso alle spalle professionale lavorativo di storia pensiamo che sia arrivato il momento di offrire un contributo a questa nostra città che amiamo quindi il filo conduttore il filo che ci unisce che non è ecco appunto che non è ideologico quindi non vive di contrapposizioni ma è il profondo attaccamento alle nostre radici e al senso di appartenenza della nostra città proporremo il nostro progetto che poi parlare di progetto è anche improprio noi vorremmo dare dei contributi con cadenza periodica a chi oggi ci sta amministrando e per sensibilizzare questa amministrazione a a risolvere le problematiche che ci sono quindi fungolare suggerire perché la nostra generazione noi siamo all'incirca tutti i coetani noi abbiamo avuto un patrimonio lasciato dalle generazioni precedenti questo patrimonio per motivi non tanto oscuri non tanto oscuri questo patrimonio è stato quasi completamente annientato noi ci troviamo con la responsabilità oggi avendo un'età oramai matura di a chi lasciamo e ai giovani cosa lasciamo i debiti siccome non vogliamo come buon padre di famiglia che punta sempre a non lasciare i debiti ai figli noi non vogliamo lasciare il deserto alle generazioni future quindi la nostra linea è quella di offrire tutti gli strumenti per far sì che Lanciano esca fuori da questa patia quindi una nuova vitalità complimenti Gianni Cuniberti allora prova del peso per Domenico di Cecco io annoterò il peso qui su questo foglio in palio due biglietti poi lasciati il vincitore dovrà lasciare i suoi dati perché comunicheremo alla sede Virtus il nominativo i nominativi quindi subito da domani andare a ritirare due biglietti di tribuna centrale per Virtus Cesena avanti Domenico c'è nato questa sera però ho vestito con le scarpe io ho mangiato la mia suocera a casa guarda è proprio perfetto ecco qui va bene mister Paroni cosa dirà va bene cominciate a telefonare l'uomo di peso Domenico di Cecco prego io questa sera sono stato con un mio amico che mi ha offerto di comperare un maiale sono stato a contrattare il maiale a peso vivo ah ok volevo sapere adesso il peso per fare no vediamo se corrisponde il costo per vedere vediamo abbiamo sì una telefonata pronto Telemax pronto ok in linea sì sono Petro Buonasera buonasera vai quanto pesa Domenico di Cecco 71 è poco il peso è tondo quindi va bene ma è troppo basso vuoi fare una domanda Domenico grandissimo un giocatore bravissimo perfetto grazie speriamo che venerdì giochi e ci fa gol ok speriamo va bene un po' di audio in sala che lo sento un po' basso un altro messaggio scommesso con mio figlio che Comi segnerà più di tre gol spero di vincere la scommessa Alfredo D'Alanciano poi di Cecco un mito esempio di sportività e professionalità complimenti ancora l'altra settimana ho detto di rimanere con i piedi per terra fino al raggiungimento di 50 punti lo ribadisco dopo possiamo sognare un caro saluto a Domenico di Cecco intanto cominciate ancora abbiamo un'altra telefonata Marcello sì grazie pronto a telemax sì in linea buonasera buonasera sono Paolo ciao Paolo vai mi puoi ricordare il peso che è stato detto 71 e basso 75 bravissimo affondato alla seconda telefonata grazie devi lasciare i dati in regia quindi non riattaccare ti do l'opportunità anche di porgere un saluto o una domanda a Domenico pronto ti do l'opportunità lascia i dati in regia ti do l'opportunità di parlare di salutare oppure di porgere qualche domanda a Dicecco ah no no voglio solo dire che è un frentano doc che per noi resterà sempre nel nostro cuore anche se dovrà andare via ma spero di no nel futuro nel futuro perché lui ha giurato amore eterno tu perché lo puoi mandare via non lo pensiamo nemmeno va bene grazie grazie e arrivederci allora 75 i chili quanti sono beh un po' di meno tutto vestito beh tutto il maiale che ha contrattato quanto pesava molto di più molto di più non è successo nessun incidente diplomatico va bene poi 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 altri messaggi per Domenico Dicecco tanti tanti complimenti va bene potete mandarcene anche altri ancora altri insieme al sondaggio anche messaggi va bene abbiamo un'altra intervista al mister che ci presenta lo stato di forma della squadra anche in prospettiva della partita col Cesena sentiamo mister baroni due interviste staccate via no noi stiamo bene stiamo bene è chiaro siamo tutti dispiaciuti perché perché le partite io onestamente come ho detto ai ragazzi dopo Empoli ero sereno perché l'avversario è stato più forte di noi e quindi quando un avversario ti dimostra che è più forte non ti resta altro che rimetterti a lavorare in maniera serena questa sconfitta ti brucia un po' di più perché onestamente non c'erano i presupposti ecco per quello che si è visto sul campo però noi a parte questo stiamo bene sappiamo che abbiamo partite difficili ora c'è questo Cesena che comunque è uscito dal calcio mercato che è un'altra è completamente un'altra squadra con un altro atteggiamento con un altro spirito con un'altra convinzione ha centrato subito due vittorie importanti Varese e Cretone quindi si presenta da noi che per noi anche se ho visto che qualcuno insiste a dire che è uno scontro per gli off io dico per loro è uno scontro importante per noi sono punti importanti da mettere dentro quindi insomma noi vogliamo fare una prestazione importante e fare punti eccoci qui ritorniamo in studio e insomma chissà la lingua batte dove il dente duole è un altro adagio perché ecco deve sempre riparire non dobbiamo dirlo insomma sommessamente ci sussurriamo solo all'orecchio perché poi dice il nostro mister che è una carissima persona però noi vogliamo fare i punti è logico noi vogliamo fare i punti ai playoff ci andiamo e come anche se poi non lo dobbiamo dire però lo pensiamo e la tifoseria questo dice perché poi io tu lo sai come faccio dico sempre no adesso la salvezza noi la raggiungiamo tranquillamente dopodiché siamo felici e pensiamo al prossimo campionato e poi quello che verrà lo prendiamo non cominciamo a prendere tutte le volte quello che verrà e quindi vediamo di prenderci il primo domenico è vero meno equilibristi insomma nelle dichiarazioni domenico ma vi dite effettivamente questo anche negli spogliatoi ci diciamo quello perché secondo me è un periodo che abbiamo provato a fare pensieri strani dopo quelle settimane che erano stati primi in classifica abbiamo avuto un po' di battute d'arresto che non possiamo permettere veramente per sette settimane siete stati alla grande quindi il primato vi ha fatto bene all'epoca all'inizio sì però dopo forse ne abbiamo parlato un po' troppo ma secondo me non è stato l'aria del primato è stato proprio perché hanno accusato dopo quel lavoro che hanno fatto perché correvano per quattro hanno accusato un leggero calo adesso piano piano perché poi hanno fatto due partite buone anche con il Modano i giocatori si sono mossi bene adesso assicurano di essere ancora in belle condizioni io dico speriamo che il campo sia possibile perché il Langiano si batterà generosamente poi se il caso o l'episodio come si usa a dire nel calcio ci punisce che gli dobbiamo fare dobbiamo sparare il giocatore quando stanno a tirare Gianni? Allora la linea equilibrata è sempre la cosa migliore se devo fare una notazione mia personale io parlerei di cempio però voglio dire capisco e comprendo capisco e comprendo che bisogna tenere un profilo basso e ha un atteggiamento sobrio ma io personalmente essendo uno che da 40 anni frequenta la curva sinceramente non mi è sufficiente il fatto di dire conserva la categoria oppure si poi vediamo no no vediamo subito io voglio vincere questo è un difetto che va trasmesso il professore e ne ricorda di questa squadra raggiungere grandi obiettivi continuare comunque su questa scia? ma comunque il fatto di essere pronti è proprio questo di essere pronti a cominciare a costruire un percorso un percorso che non sia solo di piagnistei ma di aspettative future dobbiamo cominciare a guardare sul lungo periodo oh voglio vedere la classifica Domenico vedendo la classifica che tra un po' la regia ti farà notare ricordiamo anche il big match in posticipo hanno pareggiato Palermo e Lempoli chi sono le più forti chi sono le rivelazioni dammi ecco dammi qualche tratto le più forti sono secondo me le prime due che stanno in classifica noi abbiamo giocato soprattutto Lempoli la squadra che ci ha messo più in difficoltà e poi le rivelazioni sono di solito non ci sono così tanti rivelazioni perché sia Avellino che Trapoli sono le promosse noi Latina sono tutte squadre che nessuno si aspettava di ritrovarle lì su però se ci stiamo da così tanto tempo un motivo ci sarà ormai non si tratta più di essere meteore perché avete consolidato comunque sempre la parte sinistra della classifica allora rientriamo vogliamo conoscere la storia calcistica del Cesena fare un po' di Amarcord tu sei del classe 1983 quindi il Cesena di Schackner non lo ricordi sai che nella sua storia calcistica il Cesena ha centrato anche una qualificazione in Coppa UEFA non lo sapevo 12 campionati in Serie A beh insomma ricordate il grande Cesena c'è qualcosa di nuovo nel Cesena beh sì ma va e viene ultimamente sì ultimamente ci stava anche una compravendita per quanto riguarda le cessioni però c'è stata anche una visita della guardia di finanza per la gestione precedente di Campedelli sì dello scorso anno comunque ecco qualcosa bollimpento ecco in tre minuti vi facciamo scoprire un po' la storia del Cesena montaggio di Marcello Paolucci via il Cesena è la più blasonata formazione calcistica della Romagna l'unica ad aver giocato in Serie A per ben 12 stagioni e una volta addirittura in Coppa UEFA nata nel 1920 la squadra della città era intitolata Renato Serra giovane poeta e patriota cesenate morto combattendo durante la prima guerra mondiale sulle alture del Carso durante il fascismo la squadra fu costretta a sciogliersi per la chiamata alle armi dei suoi giovani componenti nel 1940 il conte Alberto Rognoni all'epoca 21enne ebbe l'idea di creare una società con i colori dello stemma cittadino passione travolgente e quella per il calcio tanto che nel 1957 fu costruito il nuovo stadio La Fiorita nel 64 si apre l'era di Dino Manuzzi imprenditore che assume la presidenza del club il Cesena del primo periodo Manuzzi ha ispirato il Borgo Rosso Football Club suo alter ego cinematografico nel film Il presidente del Borgo Rosso Football Club 1970 con Alberto Sordi che interpreta il presidente Benito Fornaciaro Nella stagione 72-73 il Cesena raggiunge la massima serie guidato da Gigi Radice poi nel 75-76 i bianconeri raggiungono l'apice della loro storia e l'attenzione nazionale le 9 vittorie i 14 pareggi e le 7 sconfitte permettono al Cesena di raggiungere il sesto posto nella classifica di Serie A e la qualificazione alla successiva Coppa UEFA i tedeschi del Magdeburgo elimineranno subito i romagnoli gli anni 80 si aprono ancora con la massima serie e con una squadra guidata dal giovane Osvaldo Bagnoli che segna record nella sua storia come le 14 vittorie casalinghe e il maggior numero di spettatori 28.602 per Cesena-Milan si ricorda il centravanti austriaco Walter Schachner mentre il 29 maggio dell'82 muore Dino Manuzzi a cui la città intitola lo stadio seguono anni tra Serie A e Serie B con la guida Bruno Bolchi e Marcello Lippi il Cesena permane in Serie A fino al termine della stagione 90-91 la discesa nella serie cadetta non verrà riscattata per 20 anni anche se nel 2006 grazie a Fabrizio Castori il Cesena riesce a centrare il playoff promozione raggiungendo il sesto posto utile venendo poi sconfitto dal Torino in semifinale nel 2008 il club retrocede addirittura in C1 ed ecco Pierpaolo Bisoli la squadra dopo un avvio non brillante a fine stagione vince il campionato e si torna in Serie A il 30 maggio 2010 ultima di campionato a Piacenza di fronte ad oltre 6.000 sostenitori il Cesena vince e festeggia in un esaltante doppio salto salvezza nel primo anno retrocessione nel 2012 con Giampaolo a Rigoni e poi Beretta alla guida niente da fare il Cesena termina il campionato all'ultimo posto con 22 punti in classifica retrocedendo nuovamente in Serie B tornato in cadetteria il club annuncia il nuovo allenatore torna Bisoli che chiude la stagione al 14esimo posto il resto è la stagione in corso ok col Cesena in piena zona playoff va bene allora abbiamo tratteggiato anche quello che sarà il prossimo avversario nella storia calcistica su Bisoli Bisoli è un allenatore bello tosto e poi la squadra rispecchia molto il suo carattere quindi sarà una partita dura da affrontare però sappiamo già il mister ci ha fatto già vedere tutto la ragione la lucidità di mister Baroni è un po' il modo di fare forse diametralmente opposto da parte di Bisoli abbastanza opposti che meriti riconosce Baroni? il mister io l'avevo già detto secondo me sarò bravo nel non rompere tutto quello che era stato fatto negli anni passati quindi continuare su quella strada e portare tante cose che ci hanno migliorato sia a noi personalmente che di squadra quindi anche noi che siamo un po' più vecchi siamo riusciti a migliorarci anche su piccole cose però cose che poi servono nell'arco del campionato quindi secondo me sarò bravo a portare tante cose in più rispetto a quelle che già c'erano e non far ripartire tutti da zero allora ultima fascia pubblicitaria poi ci collegheremo con un collega per sapere le ultimissime da Cesena e via quindi dobbiamo correre due minuti ed eccoci ancora in studio ultima parte di trasmissione abbiamo visto la storia del Cesena adesso in collegamento telefonico proprio da Cesena Giovanni Guiducci una delle penne lui schiene per il Corriere di Romagna segua il Cesena buonasera buonasera Giovanni ci sei? ciao a tutti amici di Lanciano buonasera anche a voi buonasera amico romagnolo immagino che venerdì sarei qui da noi vero? si molto probabilmente faremo ce l'avamo anche lo scorso anno per quel camponesco tre pari è vero vediamo un bellissimo 3 a 3 senti arriva il Cesena in gran forma qui abbiamo Domenico Di Cecco tra gli ospiti in studio ha detto prima insomma l'avversario del momento a Cesena che aria tira? si adesso dal punto di vista diciamo strettamente sportivo è un buon momento soprattutto c'è molto entusiasmo dopo questa campagna acquisti di gennaio che sicuramente ha visto la squadra rinforzata i propri risultati si stanno vedendo in queste due prime partite due vittorie nette per il Cesena contro il Varese contro anche un buon Crotone e dunque naturalmente venerdì nello scontro diretto con il Lanciano la squadra di Per Paolo Bis naturalmente cercherà di proseguire la serie positiva anche se dovrà fare a meno di un giocatore diciamo non importante ma importantissimo come Cassione ex Pescara il quale la sua azienza si è sempre fatta sentire giusto un dato statistico con Cassione in 14 partite il Cesena ha fatto 28 punti dunque una media di 2 punti a partita quando invece non c'è lui 9 partite solo 9 punti per il Cesena dunque solo un punto media partita e dunque la sua assenza sicuramente peserà venerdì in quel di Lanciano senti come gioca il Cesena? il Cesena dopo il risultato fino adesso nelle ultime giornate a parte il secondo tempo di sabato contro il Crotone Bisoli si è affidato sempre la difesa a 3 la cambiata però proprio nel secondo tempo contro il Crotone sabato è stata una mossa decisiva e probabilmente venerdì a Lanciano potrebbe tornare la difesa a 4 che era un po' il modulo che aveva preparato quest'estate Bisoli però avendo a disposizione pochi e tercini aveva preferito affidarsi una difesa a 3 che comunque è andato molto bene c'era un po' il dubbio del portiere perché praticamente per i campagnoli titolare quest'estate stasera infortunato avava resi quindi sicuramente non ci sarà ma anche in solice cose in settimana ha avuto qualche problemino si è allenata a parte oggi invece comunque è rientrato in gruppo comunque c'è pronto il nuovo acquisto proprio fresco di una settimana fa l'ex bolognese Agliardi non so se prendere il posto di cos'è questo è un po' il dubbio per la gara di venerdì senti la trasferta come viene considerata trasferta insidiosa e quanto è sentita dalla tifoseria romagnola insomma quanti ne verranno e si tu hai detto squadra in forma comunque Lanciano in casa ha sempre fatto bene ha perso una sola volta per altri modi in merito nel derby col Pescara a che coefficiente di difficoltà ha questa trasferta beh no sicuramente il Lanciano è considerato un avversario ostico anche se obiettivamente magari negli ultimi periodi rispetto alla prima parte di campionato forse un po' in cala anche se comunque non dimentichiamo che a Cesena non dimentichiamo che proprio all'andata il Lanciano inflisse una delle poche sconfitte stagionali del Cesena e quindi sarà sicuramente un avversario di tutto rispetto per quanto riguarda la tifoseria non penso che ci dovrebbe essere una particolare esodo per questa trasferta è considerato che è venerdì e per quanto riguarda sentito obiettivamente c'è solo un precedente tra le due formazioni quindi a livello di tifoseria penso che sia una trasferta normalissima cosa che invece sarebbe stata diversa con sono stato diciamo dalle vostre parti a Pescara invece lì era già tutta un'altra tradizione ma con l'Anciano penso rapporti assolutamente tranquilli anche se non può essere sentita dato che non ci sono precedenti a parte sicuro va bene noi ti aspettiamo a braccia aperte casomai per un aperitivo prima della partita ok Giovanni grazie buonasera Giovanni Guiducci altri messaggi novità sul nuovo stadio in fase comunque sta cercando di sbloccare la situazione il progetto esiste la volontà dei Maio insomma adesso si tratta di mettere a punto le carte vero Gianni che sia semplicemente un problema burocratico legato al piano regolatore allo svincolo delle aree per i cambi di destinazione credo questo io sinceramente ci stanno lavorando altri messaggi ciao Enrico vorrei fare un grande boccalupo all'ex plasmati e di rivederlo presto in campo poi perché solo a Lanciano ci sono leggi strane per entrare allo stadio tipo gli episodi dell'ombrello col Brescia un saluto a tutti l'ombrello non deve avere la punta accumulata se no bisogna lasciare fuori gli ombrelli poi quando uno riesce il primo che arriva si piglia l'ombrello quindi si rimane pure senza ombrello ma un'altra cosa invece è importante che bisogna segnalare è quello che noi abbiamo là vicino allo stadio un istituto in cui ci sono l'alba chiara quello dovrebbe rimanere aperto malati terminali purtroppo perché purtroppo quelli devono poter entrare e uscire dall'altro lato casomai però non bisogna chiudere ai parenti la visita agli amati durante la partita oppure a persone che ormai aspettano soltanto di essere accompagnati dal cimitero quindi è assolutamente da prendere una decisione che non succederebbe proprio niente perché qui a Lanciano bisogna ricordare che fatti incresciosi per il calcio sono capitati negli ultimi anni una sola volta col Foggia in una partita di precambionato quando quelli erano venuti per vendicare non si sa che cosa per il resto il nostro pubblico è molto corretto per cui un po' di larghezza in quella situazione io voglio solo aggiungere questo che la tv la televisione serve a trasmettere immagini e informazioni non si riesce a capire come mai nelle altre tifoserie è possibile nelle curve portare i tamburi bandiere eccetera a Lanciano io penso che questo possa essere possa dipendere anche da un fatto di assunzione di responsabilità di assunzione da parte delle autorità di un'assunzione di responsabilità dire vabbè me ne assumo io la responsabilità se succede qualcosa se diversani io credo che questo potrebbe essere perché mi ricordo che il precedente ci sono stati dei precedenti quindi faccio appello a chi ha la gestione della città probabilmente di valutare anche una ma io non capisco probabilmente a Cazzella Mare di Stabia probabilmente a Cazzella Mare di Stabia le autorizzazioni passano attraverso l'assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione e quindi ne risponde direttamente l'amministrazione di eventuali fatti se un tamburro suono meno oppure finisce in campo è chiaro però purtroppo un'assunzione di responsabilità di questo tipo non la possiamo chiedere non la possiamo pretendere e quindi la situazione sta così altro messaggio quando si sono segnati due dei pochissimi gol su azione il grande Mimmo giocava a destra con il piede naturale non è ora di finirla con le punte a piedi invertiti saluti Luigi è la moda del momento quella di giocare a piedi invertiti una moda di ragazza come ci si trova a giocare a piedi invertiti che il sinistro gioca a destra e viceversa è chiaro che per chi ha caratteristiche non so tipo prima parlavamo di piccolo che è Mancino e gioca a destra è chiaro che viene più facile per lui rientrare e far esplodere il sinistro che ha una volta quando ho iniziato io la moda non esiste perché il destro giocava a destra per crossare sinistra sinistra poi è chiaro che con gli anni si va avanti e si trovano sempre cose diverse è chiaro che il tutto per mettere in difficoltà l'avversario quindi sono scelte che il ministro ha fatto certo culare noi siamo in chiusura perché manderemo in onda qualcosa di personale già mandato in onda qualche mese fa confezionato da Paola D'Alonso ti riguarda da vicino allora sei qui abbiamo deciso di omaggiarti vediamo il prossimo turno poi una domanda da Gianni per Domenico Di Cecco una domanda dal professor Spadano per Domenico Di Cecco e conclusioni finali vediamo il prossimo turno il Lanciano anticipa venerdì poi il quadro completo della terza di ritorno Bari Siena Carpi Spezia Cittadella Modena Crotone Pescara Juve Stabia Regina Novara Brescia Palermo Padova Ternano Avellino Trapani Empoli Virtus Lanciano Cesena la prevendita procede non proprio esaltante ma ci sarà un ottimo colpo d'occhio venerdì al Biondi Varese Latina qual è stato il momento più difficile che ha vissuto a Lanciano e il più bello Domenico il più difficile è stato sicuramente i primi anni perché non era come adesso era tutto un altro ambiente tutta un'altra situazione sia dentro che fuori dal campo e i più belli vabbè sono gli ultimi mi ci metto tutto l'anno e mezzo ultimo perché stiamo vivendo tipo in una fase felice come si suol dire quindi sembra tutto bello tutto felice quando eri a Barletta quanto hai guardato il cielo e pensato perché non sono a Lanciano quelle sono scelte purtroppo sbagliate ma scelte che tocca fare quindi io ero andato lì per vincere il campionato invece l'hai visto vincere a Lanciano hai ti fatto però Lanciano si avevo troppi amici per non fare il tipo per il Lanciano Gianni domandina ma io a lui chiederei hai 30 anni se non sbaglio 30 anni giovanissimo però la carriera sportiva altri 4-5 anni ci sono abbondanti te la senti di portare a Lanciano in Serie A? ecco vai domandone più che una domanda è chiaro che qui come dicevamo prima sognare non costa niente quindi anche dello spogliatoio non ce lo diciamo ma è chiaro che il sogno di tutti è quello non dico di andare in Serie A però già giocare secondo me i playoff è un traguardo straordinario però non è facile perché ci sono squadre sotto di noi hanno speso molti più su di noi e sono molto più attrezzati di noi però se come io dico sempre non hanno quel gruppo che c'è qui a Lanciano e secondo me se riusciamo a fare quel miracolo tanto del merito vada dal gruppo storico che c'è qui anche quando abbiamo fatto i playoff alla Serie B di facciamo i playoff poi siamo anche a Filippi professore l'ultima qual è il ruolo dove ti sentiresti di giocare con maggiore diciamo partecipazione perché molte volte uno gioca là tu giochi dappertutto ti mettono pure ala c'entra avanti quando prima dove vorresti giocare così serenamente no è chiaro che io ho sempre giocato a centrocampo quindi il ruolo in cui mi trovo meglio è quello però devo dire la verità che con il mister sia l'anno scorso con il mister Gauderi che con Baroni mi trovo molto bene anche a giocare attaccante perché poi vogliono dei movimenti per coprire la fascia per dare una mano ai compagni quella è la prima cosa però con i tagli con i momenti che vogliono loro tante volte ti trovi benissimo non dico vicino al portiere però riesci a mettere in difficoltà gli avversari l'ultimissima Gianni io sono sicuro sono certo che dice che non lascerà più Lanciano magari quando appenderà le scarpette avrà un ruolo io sarò quattro anni in altru posto gli danno 200 però sono sicuro che non lascerà più la Virtus e sarà uno dei dirigenti della Virtus perché crescerà sono sicuro io lo vorrei come educatori di nuove leve di nuove leve è la nostra città e perché no perché no allora cosa dici a tutti i tifosi in prospettiva della notturna tra altre cose la tradizione è favorevole sotto le stelle per il Lanciano vai Domenico a parte che non devo dire niente a loro perché tanto io chiedo solo come sempre di caricarci già da riscaldamento come fanno sempre perché sarà una partita sicuramente più che una partita sarà una battaglia quindi se ci facciamo trovare pronti sia noi che loro sarà dura per il Cesena c'è qualcosa di personale con Paola D'Alonso io ringrazio Gianni Cuniberto grazie a te grazie Domenico Di Cecco grazie a professor Vittorio Spadano ci ritroveremo mercoledì poi venerdì con Amuso Duro si seguirà la partita in diretta sabato alle 18 alle 20 alle 23 tante reprise la domenica uno speciale su Lanciano e Pescara poi uno di passione calcio e insomma mercoledì ritorneremo con Rosso e Nero Positivo 84,9% si ritiene che la città sia pronta per il grande salto quindi è un plebiscito una dittatura professore 13,7% no solo l'1,4% saranno gli amministratori che non vogliono fare lo stadio che pensate voi questo è l'atteggiamento che voglio dai miei dai Lanciani questo è l'atteggiamento non l'atteggiamento di autocommiserazione ti vuoi ringalluzziti sì certo perché ci sono tutte le condizioni per far sì che questa città diventi di serie A complessivamente qualcosa di personale con te Domenico arrivederci a tutti alla prossima è uno dei pochi frentanni doc a vestire i colori rossoneri sta vivendo un periodo di grande forma fisica e come tutti i suoi compagni ed altronde come anche tutto il popolo rossonero si sta godendo giustamente il primato in vetta alla classifica di serie B è un giocatore di esperienza che prima di approdare nel club rossonero ha militato in altre squadre e tra queste c'è anche il Chieti avversario storico del Lanciano sicuramente avete già scoperto di chi stiamo parlando stiamo parlando di Domenico Di Cecco ciao Domenico e Domenico Di Cecco sarà anche il primo calciatore che ci racconterà qualcosa di personale attraverso tre oggetti che hai scelto proprio tu da quale vogliamo cominciare di questi tre? beh partiamo dal pallone che forse è quello meno importante di quelli che degli oggetti che ho portato però è quello che rappresenta poi la mia passione il mio sport preferito quello per cui vivo perché sono 25 anni che gioco a pallone e lo faccio giorno dopo giorno sempre con la stessa passione lo stesso divertimento quindi la passione mi accompagnerà sempre e sempre ci sarà tanta sofferenza ma anche quante grandi soddisfazioni che ti ha regalato questo pallone? beh tante soprattutto le soddisfazioni perché le sofferenze poi le cerchiamo di togliere dalla mente quindi mi ha fatto conoscere tanta gente che non avrei mai conosciuto tanti amici tante persone che mi sono rimaste nel cuore amiche tanti posti per l'Italia che ho girato quindi mi ha dato tante tante gioie e c'è un momento magari un gol che ti è rimasto più nel cuore? ma più che gol il momento quando forse giocavo nell'Avellino che abbiamo vinto il campionato per andare in Serie B e che abbiamo fatto gol al 93 forse all'ultimo minuto quindi quella gioia mi rimarrà impressa per tanto tempo e questo va bene era il primo oggetto il pallone il secondo invece? il secondo che ho portato la fede perché la fede perlomeno per come la vedo io rappresenta la famiglia e quindi ripenso ai miei genitori a tutti i sacrifici che hanno fatto per far sì che io diventavo la persona che sono o la famiglia di mio fratello di mia sorella penso soltanto a cose belle e poi è chiaro che mi sono costruito la famiglia io con mia moglie e quindi la cosa più bella che potevo fare a questo proposito il terzo oggetto non poteva che essere legato appunto alla famiglia che ti sei costruito il terzo oggetto ha portato due ciucci e la foto dei miei bimbi che sono nati due mesi fa due gemellini che ci hanno stravolto la vita perché penso che non c'è gioia più grande per un genitore per un ragazzo comunque averli aver fatto due bimbi stupendi come si chiamano i tuoi bimbi? si chiamano Diego e Luca ed è vero che gli hai già preparato la magliettina rosso-nera proprio a misura per loro? si la maglia bella la rossa e nera personalizzata già ce l'hanno in più mia moglie poi per la prima partita che abbiamo fatto gli aveva fatto una maglietta con il mio numero e quindi mi ha mandato la foto prima della partita e mi sono messa a piangere per poco forse e quindi un dicecco insomma che si commuove questi poi sono i valori grandi della vita che ti porti in campo insomma tutte le volte che scendi sul rettangolo verde anche? si no poi soprattutto sul terreno di gioco e soprattutto poi negli spogliatoi con i ragazzi noi ne abbiamo tanti giovani più giovani di noi è importante sapere quali sono i valori che contano nella vita saperli farli rispettare trasmettere loro quelli che poi si porteranno dietro per tutta la vita perché per come la vedo io quello che poi uno fa in mezzo al campo poi se lo porta dietro per tutta la vita quindi io sono contento che tante persone che mi hanno conosciuto sanno quali sono i miei valori e che persona sono grazie